Non passa inosservato, sin dallo sbarco. Matteo Salvini sceglie di rifugiarsi sull'isola d'Ischia, dribblando le tensioni che attraversano il governo Draghi, e insieme alla compagna Francesca Verdini opta per qualche giorno di relax, ospiti entrambi della ventesima edizione dell'Ischia Global Fest di Pascal Vicedomini. Arrivato su un aliscafo di linea, il leader della Lega ha passeggiato lungo il corso di Lacco a meno, non sottraendosi al dialogo e ai saluti con i cittadini isolani e con qualche turista, prima del rientro alla regina Isabella, l'albergo dove alloggia e di cui era già stato ospite qualche anno fa insieme ad Elisa Isoardi. Nel gala serale alla tenuta L'Incanto, a Forio, Salvini ha ceduto le luci dei riflettori a Francesca Verdini, premiata dalla Kermess cinematografica in qualità di produttrice, con la società La Casa Rossa, del film Ghiaccio, diretto da Fabrizio Moro, all'esordio come regista. Abbiamo realizzato un set green, un esperimento che ha complicato un po' le cose rispetto a un set tradizionale, ma abbiamo deciso di provare a cambiare il modo di fare cinema, di essere ecosostenibili. Grazie a tutti.